Oh, finalmente vestita come Cristo, come... Oddio. Che c'hai? Mi scongioro un serenillo. Ma perché? Che c'hai? Niente, non mi regolano le gambe. Un pasticco in goccia. Ti faccio sparire tutti i particolari. Ma catastrofico di che? Ci vuole un tir qua per portare via la roba. Ma che te che li cavatela in 4 e 4-8? Come ti chiedi a 10 minuti e elimino ogni tua traccia, eh? Piano, no, piano, piano, piano. Non so più di mezz'ora, gli ho detto di venire alle 11. Certo, piano James Brown. Certo, perché tu non hai, fra l'altro, minimamente considerato l'ipotesi che io ti potessi dire no. Perché a te è tutto te dovuto, è sempre sì per te, vero? Ma che dovessi dirmi di no? Non ho capito. Dai, sei il mio miglior amico. Lo sai benissimo, se me l'avessi chiesto te non l'avrei fatto uno, ma cento volte. Va bene, allora, in tutto questo dov'è che vado a dormire? Sotto un ponte, in albergo, dove vado? A casa mia, dai. Casa tua. Ho già sistemato tutto, ti ho messo un asciugamano pulito in bagno e ti ho cambiato l'enzuola. Queste sono le chiavi, la chiave argentata è del portone grande e questa qui è della porta di casa, va bene? No! Ma la chitarra di Andy, quella è un cimelio, costa 25.000 dollari. Ma mi fai prendere un colpo. Ma non si prende così sta chitarra, dai. Ma no, come la metti? Piano, piano, piano. La metto così, poi la metto sotto al letto, non ti preoccupare, dai. Su, dai, vai. Ma che cacci via, ma che cacci? Ma perché? Non ti preoccupare, fondamentale. Cioè? Dove tieni il cacciavite? Il cacciavite sta nel cassettino sotto il lavabo della cucina, va bene, a che te serve? Devo togliere la parchetta della porta, no? Ti devi pure quella? Eh beh, certo, no? Dai, su, vai. Va bene. Vai. Eh, va bene, fa facile a questo. Eh, d'accordo. Oh, grazie di tutto, eh, veramente, sei stato un grande amico. Ciao. Sì. Lampilla. Eh? Senti, ma te il maglialino in agrodulce non lo mangi? No, perché? Allora, ma lo potresti dare, perlomeno metto qualcosa sullo stomaco. Sì, hai ragione, è un'ottima idea, sì. Eh? Ciao, buon...